Buone notizie per chi usufruisce del parcheggio di via del risorgimento, quello a fianco al commissariato di polizia di Fano. Che il suo stato sia veramente pietoso e sotto gli occhi di tutti, buche profonde, pozzanghere infinite, manto sconnesso, insomma sembra di percorrere una vera e propria gincana. Dopo le numerose segnalazioni arrivate sia alla nostra redazione che al Comune, la Giunta Comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto preliminare per un costo complessivo di circa 400 mila euro per la riqualificazione dell'intero parcheggio. Il progetto che abbiamo approvato riguarda proprio la riqualificazione di tutto questo spazio dove andremo a creare 88 posti auto, sarà un intervento di qualità con materiali di qualità saranno drenanti quindi non ci sarà uno spazio di solamente una semplice asfaltatura ma andiamo proprio a riqualificare anche con una qualità urbana degna di questo luogo. Salvaguarderemo tutta questa fascia verde adiacente ai passeggi, salveremo anche gli alberi che rimarranno e ne pianteremo altrettanti sia per ombreggiare il parcheggio ma anche appunto per una nuova piantumazione. Saranno circa 30 o una trentina di alberi. Il parcheggio sarà completamente gratuito. Un parcheggio comodo, sicuro e funzionale che servirà a tutti i frequentatori degli uffici e le attività commerciali vicine oltre a favorire l'accessibilità al centro storico. È importante anche sottolineare che ci sarà un nuovo collegamento dal parcheggio verso i passeggi all'altezza del ponte in modo da facilitare appunto l'accessibilità al centro storico. Per i tempi invece? Abbiamo appena approvato il progetto preliminare quindi i prossimi mesi andremo spediti con il progetto esecutivo e quindi per iniziare i lavori nella seconda metà dell'anno.